Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono Aga Scorupinska-Barberini, sono un consulente finanziario di WeBank, gruppo Banco BPM e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio di webinar di formazione, trading e investimenti, indice Fuzzimib e Blue Chip. Questo è l'argomento di un appuntamento ricorrente con Enrico Jay dove vedremo l'analisi, come dice il titolo, delle principali azioni alcune che compongono il nostro indice borsistico. E allora do il bentornato ad Enrico Jay sul nostro canale. Ciao Enrico, come stai? Bene, grazie Aga, grazie dell'invito, sto bene altrettanto spero di te e mando un saluto a chi ci sta seguendo e a tutti i tuoi follower. Bene, bene, allora ricambio immediatamente e saluto i tuoi follower, ovvero tutti gli utenti di Scatta Coltrend, del portale di informazione, trading e investimenti di Enrico Jay dove lo stesso Enrico condivide tantissime cose. Tra poco ve lo dico, ma prima condivido con voi i miei recapiti, come facciamo sempre, questo al fine di ricevere intanto le vostre domande pertinenti, pertinenti nel senso voi sapete che è un webinar in diretta, quindi se volete chiedere l'analisi di un qualche titolo che si trova all'interno dell'indice Futsimib lo potete fare. È sicuramente più efficace se me lo scrivete sul cellulare, ma potete farlo anche nei commenti YouTube, oltretutto Stefano Bargiacchi dalla regia ha già inserito tutti i miei recapiti e colgo l'occasione per salutarlo. Ciao Stefano. Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci, allora sulla slide che vedete compaiono tutti i miei riferimenti, tra cui anche l'indirizzo mail che recentemente è stato anche un po' semplificato, allora ve l'ho inserito, che prende spunto appunto dal mio nome e cognome originale polacco, voi sapete che io ho la doppia cittadinanza e quindi il mandato è rilasciato a questa signora qua, a questo cognome, e per questo motivo la mia mail potrebbe risultare abbastanza difficoltosa, basta che fate copia e incolla comunque da quello che vi ha scritto Stefano. Il mio codice promotore è un dato che può esservi utile se state valutando di aprire un conto in questo periodo, oppure conoscete qualcuno che si trova male con la sua banca, che sta pagando magari le commissioni di negoziazione un po' troppo alte, oppure non ha una piattaforma T3, una piattaforma di trading, e può essere interessato alla nostra T3 appunto, che useremo anche oggi, e quindi inserendo il mio codice promotore PF51960 voi sarete assistiti appunto dalla sottoscritta in tutte le fasi dell'apertura e dell'utilizzo del conto, tranne che per i consigli, ma per quelli avete Enrico, e quindi avete un prodotto completo di tutto, sia per operare, sia per sapere come orientarvi su questi mercati, e appunto noi oggi vedremo il Fuzzimib, anche se Enrico nella sua operatività copre un po' tutto a livello di asset, a livello anche di tecniche di trading e di investimenti, vi sto mostrando il suo profilo professionale presente sul nostro sito, qui potete trovare anche tutte le scorciatoie per raggiungerlo su vari canali, cosa molto interessante e comoda, sono le applicazioni per gli smartphone, entrambi Android e iOS, che potete appunto scaricare sui vostri cellulari, al fine di rimanere in contatto con Enrico e con le sue opinioni e indicazioni proprio in tempo reale. Vi mostro soltanto il suo blog, dove altrettanto presente tutta una serie di analisi che riguardano il mondo dell'economia e del trading. Tra l'altro c'è anche il libro che Enrico Di Recente ha scritto a quattro mani con Manuela Donghi su come investire, e questo è un po' in chiave così spiritosa, lo si capisce dal titolo Io speriamo che la borsa sale. Come va? Come va il libro? Enrico, so che avete fatto anche tanti tour di presentazione. Beh, ti ringrazio, il libro va bene, ringraziamo l'editore Mursia, ringrazio Manuela Donghi. Abbiamo girato e stiamo girando, siamo stati ovviamente a Roma, a Milano alla Bocconi, in Trentino all'Università di Rende in provincia di Cosenza, prossimamente saremo di nuovo in Lombardia all'Overe, insomma ci muoviamo e siamo soddisfatti del ritorno che il libro sta avendo, ed è un libro dedicato proprio a chi si approccia ai mercati, quindi si vanno a dare quegli strumenti per evitare disastri e muoversi in questa giungla in maniera un po' più sicura, un po' più concreta soprattutto. Ti ringrazio di averlo menzionato. Piacere mio. Allora, veniamo allora a questo punto alla giornata di oggi, a quello che possiamo, che puoi condividere a livello di opinione, analisi e view sui mercati con chi ci sta seguendo e in particolare, anche se il titolo di questo webinar, di questa serie, perché noi ci incontriamo ogni mese con Enrico per vedere le azioni del Futsimib, nonostante appunto riguardi l'azionario italiano, chiaramente la situazione macroeconomica influisce su tutto e tutti, le economie sono intrecciate anche i mercati finanziari naturalmente, e noi questa settimana possiamo tranquillamente, a freddo, commentare la caldissima settimana scorsa, che è stata la settimana delle settimane, e forse la settimana dell'anno perché coincidevano tanti appuntamenti delle banche centrali, varie decisioni, anche i dati macroeconomici. Quindi, Enrico, così abbruccia pelo, qual è la tua opinione, qual è la situazione di questi mercati oggi, a una settimana dalle grandi decisioni delle banche centrali? Hai detto benissimo, Vaga, la settimana scorsa è stata una settimana topica, perché abbiamo avuto la BCE, la Fed e anche la Bank of England pronti ad alzare i tassi, però tutte queste tre banche centrali non hanno riservato sorprese, perché per la Fed era atteso uno 0,25, per la BCE erano attesi 50 punti base e sono stati rispettati. Addirittura la BCE, come comunicato, Miss Lagarde ha detto che per marzo sono previsti altri 50 punti base, quindi già hanno dato una strada molto chiara. E gli investitori poi si aspettano dopo marzo un ulteriore 0,25, quindi si dovrebbe andare, in parole povere, a un 3,25 come tassi BCE. Questo secondo me è sorprendente, perché si pensa che si potrà arrivare al 3,25 e probabilmente fermarsi. Ora, visto che, e non lo dico io perché è riportato proprio sul sito della BCE, visto che si punta ad avere un'inflazione media del 2%, e a oggi chiaramente l'inflazione è molto più alta. Noi siamo ancora in doppia cifra, ma se pensiamo che ci sono 27 paesi membri dell'UE, abbiamo la Germania che chiaramente ha un certo tipo di economia, mentre magari la Bulgaria o la Lituania ne hanno un'altra, con differenti PIL, welfare, situazioni debitorie, eccetera. Quindi Miss Lagarde ha un compito sicuramente difficile e, visto che l'inflazione viaggia mediamente tra l'8 e il 9 in Europa, secondo me pensare già solo fra un mese di fermarsi al 3,25 mi sembra che la forbice potrebbe essere troppo larga. Quindi i mercati hanno preso comunque bene questa situazione e sono saliti. Dopo il doppio minimo fatto a ottobre, c'è stata una salita incessante, soprattutto del nostro indice che... Te lo aspettavi questo gennaio così? Mi aspettavo un gennaio a rialzo, ma non con tanta forza, per la verità. Non con tanta forza, perché si vede proprio... Non serve l'occhio di un analista, serve proprio l'occhio del buonsenso. La salita è proprio ripida, soprattutto sul nostro indice. Mentre è stato molto interessante quello che poi in verità è successo la settimana scorsa, l'unica vera sorpresa, la vera sorpresa che ha veramente mosso i mercati, e mi riferisco ai non-farm payrolls. Allora, perché magari non è esperto a vezzo di trading, non-fair payrolls sono la creazione di nuovi buste paga, non-farm, quindi non del settore agricolo, quindi in pratica quelle più importanti, per cui terziario, industria e così via. Se ne aspettavano circa 180.000 negli Stati Uniti, ne sono state create oltre 500.000. A caldo, all'uscita del dato, i mercati hanno reagito male, perché hanno detto, ok, se c'è tanta gente in più che lavora, potrà spendere, questo potrebbe far risalire l'inflazione. E quindi c'è stato un attimo di, chiamiamolo, panico, tra virgolette, sui mercati. Chiamata, sì. Però poi cos'è successo di nuovo? Che ieri, alle 18.40, ora italiana, Jerome Powell, presidente della Fed, parlava presso una conferenza con altri governatori e in pratica ha di nuovo rassicurato i mercati, perché si diceva, ok, dopo questo dato sulle buste paga, magari Powell potrebbe anche egli cambiare un po' vision. Invece è stato molto colomba e poco falco, ossia ha detto che l'inflazione sta comunque rallentando. Ed è molto contento del fatto che, nonostante una situazione del mondo del lavoro negli States, così Florida non sta questa situazione alimentando nuove fiammate di inflazione. E quindi vede la situazione più o meno rossia in maniera positiva. Non ci aspettavamo che il rapporto sui posti del lavoro di gennaio fosse così forte, ma dimostra questo perché pensiamo che questo processo di riduzione dell'inflazione richiederà un tempo come periodo significativo, perché i mercati del lavoro sono forti. Quindi ci sarà probabilmente, secondo Powell, un'inflazione che tenderà ancora a raffreddarsi, ma non velocemente, quindi ci vorrà del tempo. Però crede di poter gestire e di avere comunque la situazione sotto controllo. Ricordo però che con i rialzi previsti della Fed, che sono ancora almeno due di uno 0,25, si arriverà a un 5,25. ed è curioso che invece l'ABC sembri volersi fermare a un 3,25. È impossibile più o meno. Noi abbiamo un'inflazione più alta e quindi dovremmo aumentare i tassi più della Fed. Invece con un'inflazione più alta sembriamo intenzionati a fermarci al 3,25. Non la vedo semplice, insomma. Non la vedo semplice. Quindi questo, secondo me, porterà, al di là dell'euforia di questo periodo, poi ad avere una situazione di consolidamento sui mercati, sia perché siamo saliti troppo e anche perché, e qui se voi possiamo introdurre un nuovo argomento, siamo saliti sia noi che tutti gli altri mercati anche sostenuti da, come sempre, trimestrali al di sopra delle aspettative. Allora, sì, ma non ti sembra un po' inipercomprato questo mercato? Sto mostrando in questo momento, confermamelo, che si vede la T3, con il grafico del Futsimib Future ho preso, però è come, diciamo, poco cambia, in confronto a quello che sta accadendo sul DAX e sull'S&P 500. Adesso ho mosso il mouse e quindi non riesco più ad entrare e dunque a capitare che sia dall'inizio dell'anno. Eh? Il grafico è chiaro, come lo hai predisposto tu? Sì, lo spiego brevemente. In pratica, quello che vedete più in alto, rosso e verde, è proprio il Futsimib. E dice che dal 20 di dicembre del 2022 ha fatto il 15%. Quello sotto, blu e grigio, è il DAX, con il più 11% e due, è quello sotto ancora l'S&P, più in fondo. Cioè, di solito era al contrario, no? Sì, di solito era al contrario, però in un periodo in cui c'è molta volatilità, dettata proprio da banche centrali e così via, cosa accade? Quello che accade è che un indice come il nostro tendenzialmente va a beneficiare di tassi in rialzo, perché chiaramente abbiamo nel nostro indice moltissime banche, abbiamo varie assicurazioni, abbiamo delle finanziarie, pensiamo a Generali, a Agimut e a tutte le banche, e chiaramente un aumento dei tassi è positivo per questi titoli. Perché? Perché debbono collocare prodotti, pensiamo a una compagnia assicurativa, deve collocare un prodotto che con tassi in rialzo diventa più allettante. Così anche una banca che va a concedere credito con tassi in rialzo poi incasserà interessi passivi per il cliente che ha avuto il finanziamento, il prestito, e quindi incasserà interessi più alti. Quindi un indice come il nostro che ha molti titoli finanziari, barra bancari, barra assicurativi, beneficia sicuramente di questa situazione d'altronde. Se noi ci pensiamo, Aga, e dico a tutte le persone che ci stanno ascoltando, negli ultimi 10-15 anni, quando abbiamo dovuto avere tassi bassi, quindi per stampare liquidità con Draghi, con il suo bazooka, per salvare l'euro, per salvare la Grecia, cos'è successo? Che indici che hanno aziende che formano un tessuto sociale produttivo, quindi come l'SP, come il DAX, sono tornati in alto, e sono andati sui massimi storici. Il nostro indice Fussimib, invece, con tassi a zero, in alcuni casi anche negativi, se ci pensiamo, è uno di quegli indici che non ha più rivisto i suoi massimi assoluti, oltre i 48 mila punti, pre-Leman Brothers. Quindi i tassi bassi hanno pesato sul nostro indice. Perché? Perché chiaramente se io erogo un prodotto assicurativo e con tassi a zero ti va a tassi a zero, immaginiamoci una compagnia assicurativa, io prometto a te che compri il mio piano di risparmio di darti fra 20 anni l'1%, non è molto allettante. E quindi abbiamo visto molto semplicemente il nostro indice per formare con tassi bassi molto peggio. Guarda caso, adesso che i tassi sono in rialzo, invece il nostro indice è il migliore. Non credo che possa essere... Sì, ma non è un po' tirato? Guardiamolo, analizziamolo. Se ti va... È assolutamente tiratissimo. Guarda, se lo mettiamo... Io sono pronta a scrivere, mettere tutte le righe che... Guarda, no, no, ti dico una cosa proprio semplice. Se lo mettiamo sul time frame weekly, solo un attimo, Allora, eccolo qua. Andiamo... Perfetto. Noi vedremo che dai minimi di ottobre, quindi in area 20.000, dove abbiamo avuto quel doppio minimo, cosa è successo? È successo che c'è stata una gamba rialzista da ottobre del 2022. Sì. Una gamba rialzista molto chiara, poi c'è stato un brevissimo periodo di consolidamento, di ritraccio, e poi si sta formando la seconda gamba rialzista che ormai ha quasi la lunghezza della prima. Quindi in pratica... Così? Esatto, perfettamente. Perfettamente. Ora, se noi prendiamo la prima gamba rialzista e la appunto sovrapponiamo alla seconda, vediamo che arriviamo all'incirca a 28.000 punti, che è la resistenza che abbiamo... Qua? Esatto, siamo più o meno là. Quindi arriveremo probabilmente in area 28.000 punti, andando a formare la seconda gamba rialzista. 28.000 è una resistenza statica molto, molto chiara. Ora, non è detto che a 28.000 l'indice crolli. Io non... Ecco, lo vediamo. Siamo su una resistenza chiarissima. Anche statica, no? È importantissima. Quella lì era il massimo pre-pandemia, da lì c'è stato il crollo fino a marzo del 2020, ok? Quindi andiamo a fare quel test su una cifra tonda. Questo probabilmente porterà a una fase di consolidamento. Magari potremmo avere un tentativo di falsa rottura, arrivare a 28.100, 28.2, ma come hai fatto vedere tu all'inizio sul time frame daily siamo veramente molto, molto tirati. La salita è stata soprattutto molto ripida. È chiaro che in questi casi chi è entrato a 20, 21.000 e adesso a 28 vuol dire che stai realizzando il 35% di rendimento in quattro mesi. Cosa succede? Che alla prima voce negativa, al primo stormir di foglia, come direbbero i poeti, prendi e porti a casa il profitto. Quindi attenzione, perché adesso siamo veramente in ipercomprato eridente. Quindi se mi dici da qui a fine anno, io da qui a fine anno probabilmente potremmo chiudere ben sopra i 28.000 secondo me. Ma in questo momento non credo sia il timing corretto in generale per comprare l'azionario. Ok, come indice. E il nostro è il più tirato fra tutti gli indici. Bene, allora dove potrebbe essere un livello per entrare uno storno, eventuale storno, dove consentirebbe questo ingresso a tuo avviso? Se lo metti, adesso ti chiedo scusa, non mi odiare. Se torniamo su un beli, secondo me riusciamo a vedere. Mi piace farmi odiare. Dai, non ci facciamo. Va bene, va bene. Ci sono problemi peggiori. Allora, un livello interessante sono i 26.000 punti. 26.000 punti, ok, perché lo vediamo tra novembre e dicembre del 2022, del 2021, chiedo scusa, era un'area di triplo minimo, insomma di supporto. Sì, allora voglio essere precisa e quindi voglio mettere qua 26.000 perché siccome la piattaforma me lo consente, io ho sentito. La T3 consente tantissime cose, io lo dico chiaramente, chi ci sta seguendo e vuol provare, contatti AGA senza alcun problema perché la T3 è una bellissima piattaforma, oltre a poter fare praticamente tutto. Ecco, vediamo che a fine del 2021, quindi novembre, dicembre 2021, Aria 26.000 era un supporto molto molto chiaro. Uno. Esattamente. Due e poi è stata rotta proprio. Esatto. Adesso è di nuovo un supporto, quindi noi adesso abbiamo i 28.000 come resistenza evidentissima e quindi un ritraccio in Aria 26.000, io poi parlo sempre di Aree, mi fanno un po' ridere, mi perdoneranno, quelli che dicono l'ingresso è a 26.123,4. Dico, ma neanche il mago Zurli insomma. Io direi che se noi torniamo in Aria 26.000, 26.200 diventa un'area supportiva interessantissima. oggi eviterei ingressi rialzisti perché ogni momento è buono per stornare un po', insomma. Per venire giù, esatto. Anche perché qui proprio ha fatto questo triplo massimo che ha dato il via a questo storno molto importante poi alla fine. Anche perché a spostare il nostro indice c'è questa opinione diffusa, non ci vuole tanto a spostarlo sia in alto sia in basso perché lo muovono, per lo più, i titoli che hai detto tu all'inizio, no? Noi, sai, basta che dicano qualcosa di positivo sulle banche o di negativo ed ecco che metà dei titoli vanno su o vanno giù, basta che la BCE dica come era successo un po' di tempo fa, le banche italiane stanno retrocedendo un po' troppo a troppi dividendi e quindi debbono darsi una regolata oppure il buyback in alcuni casi e quindi ci vuole un attimo a rovesciare le carte in tavola. A proposito dei dividendi, comunque è stagione delle trimestrali ancora, no? Raccontaci un po' come sono andate, abbiamo visto l'Unicredit che ha fatto dei numeri molto interessanti, ma non solo l'Unicredit, no? E come stanno andando queste trimestrali? Beh, diciamo che le trimestrali vanno tradizionalmente bene, sembra che, notizia di stamattina, è andata bene anche la trimestrale di MPS, quindi se va bene la trimestrale di MPS direi che può andare bene qualsiasi trimestrale, no? Diciamo, solamente intesa, paradossalmente, l'unica banca che si dice sempre è un gioiello, invece ha fornito dei dati che non mi sembravano neanche male, però non sono stati a caldo ben accolti dai mercati, ma tendenzialmente le trimestrali sono più o meno tutte al di sopra delle attese, le società italiane fanno profitto e chiaramente cosa accade? Per far sì che l'investitore o l'azionista non le molli. Vanno a promettere ogni anno dei dividendi maggiori, anche quest'anno ho letto che più o meno, proprio di questa mattina, il 51% dei profitti lordi sarà erogato come sotto forma di dividendo, che è una cosa, se ci pensiamo folle, nel senso che Warren Buffett dice sempre io preferisco investire in aziende che non danno dividendi, perché sono più contento se anziché dare dividendi, qui i soldi li usano per crescere, per aprire altre filiali, per fare ricerca, per assumere personale, per aprire, non parliamo di banche, parliamo di industria, per aprire nuove sedi, nuovi capannoni, nuovi macchinari, eccetera. Invece noi italiani diciamo ma io sono contento se la società della quale sono socio, perché chi compra anche una sola azione, è socio di quella società, anziché crescere se mi dà un piccolo dividendo, così io divento. E quindi in Italia basta dire che il 51% di quello che faccio di profitto, siccome non so come investirlo, lo do a te, in modo che tu sei invogliato a tenere ancora le mie azioni. a non venderle. Quindi la situazione è rosea dal punto dei dividendi e delle trimestrali perché sono state tutte al di sopra delle aspettative. D'altronde venivamo da un 2022 in discesa e quindi le buone notizie ce le aspettavamo. Tutte le trimestrali, non tutte, ma l'80% sono andate bene, anche di titoli diciamo mid cap o sottili, parliamo di Geox o di altri titoli, quindi c'è stata un'area positiva, è stata prima le banche centrali e poi le trimestrali e quindi ci porteranno probabilmente in area 28 mila punti, insomma credo che potremmo anche arrivarci. Bene, allora, prima di passare ai titoli, ricondivido con voi nuovamente il sito di WeBank, lo vedi, vero Enrico? Sì, sì, confermo. Ho deciso correttamente perché, come vi dicevamo poco anzi, se aprite il conto avrete la T3 e se si tratta di un cliente nuovo, in questo caso, inserite il mio codice promotore perché lo acquisite da questo webinar PF51960, avrete il diritto di ricevere la piattaforma T3 gratuita e la vedremo tra pochissimo. È un regalo che vale 30 euro al mese perché questo è il suo costo in abbonamento. Il conto WeBank è un conto corrente a tutti gli effetti, è un conto bancario. C'è stato un periodo l'anno scorso in cui, anzi fino al 31 di gennaio, l'abbiamo tenuto gratuito, quindi abbiamo anche tolto il canone mensile dei 2 euro. Attualmente questa promozione è scaduta, quindi il conto prevede tutte le operazioni gratuite, esattamente così come è scritto qua. comprese le operazioni col banco, matri, lascio della carta di credito e tutta una serie di cose e vi costa soltanto 2 euro al mese. Con questi 2 euro ci sono anch'io compresa nel senso un aiuto di un consulente finanziario per la fase di apertura conto e perfezionamento e impostazione del vostro conto trading o investimenti come preferite. Qui potete fare veramente tutto perché appunto con il mio aiuto sicuramente procedete più velocemente, vi chiarisco tutti i dubbi all'istante per quanto riguarda le nostre procedure, basta che mi chiamate oppure mi scrivete un whatsapp come tanti di voi hanno fatto e avere un referente personale sicuramente ha un valore ben maggiore dei 2 euro mensili. Apre il conto è estremamente facile, basta cliccare su quel pulsante verde che vi ho mostrato e riempire i campi che vi sono chiesti, che sono i dati anagrafici. Sostanzialmente arrivati alla parte 3 basta inserire il codice promotore PF51960 al fine appunto di avere l'assistenza della sottoscritta e con questo la titola è gratuita solo per i nuovi clienti per l'intero gruppo Banco BPM e naturalmente la trattativa per quanto riguarda le condizioni trading perché non andrete a profilo standard come si dice a profilo pieno ma avrete senz'altro un ribasso molto interessante sulle vostre condizioni codice convenzione, codice presentatore da lasciare vuoto in questo caso. Bene, allora andiamo a vederla questa T3 anzi torniamo a vederla perché abbiamo già analizzato anzi confrontato poi analizzato l'indice Fuzzimi forse sto condividendo l'intero desktop allora lo interrompo e prendo giusto? Io vedo adesso vedo te sì, prima vedo la T3 Allora, sì volevo che prendesse soltanto la T3 eh, questo è benissimo ci sono? Perfetto senza i bordi attorno di modo che gli amici che ci seguono vedono più grande possibile allora il Fuzzimi l'abbiamo fatto e quindi lo tolgo eh sotto ho il paniere e vediamo che oggi il FIP sta facendo più 0,67% questo è appunto il Fuzzimi con i suoi titoli ordinato in ordine alfabetico e quindi e da a2 eh in poi voi potete cambiare questo ordine e metterlo per esempio dal migliore al peggiore basta cliccare sulla colonna variazione e vedete eh che perlopiù abbiamo i segni verdi sul nostro listino oggi il migliore è Saipem attualmente allora eh torno a metterlo eh in ordine alfabetico perché vorrei iniziare dall'Enel ce lo chiede Niki e e quindi vado col tasto destro eh grafico eccolo qua cambio il time frame tolgo i volumi intanto e metto il giornaliero aumento la profondità da un anno vado a mettere tutti i dati caricamento ecco fatto lo allargo eccolo qua bene Enrico come lo vedi questo titolo? allora Enel è un titolo che ha dopo ha lasciato il gap da stacco da dividendo eh al 20 di gennaio sì e poi eh ha proseguito nella discesa è uno dei titoli che aveva fatto meglio perché da area 4 era arrivato a 5 e 80 adesso credo che come anche ERA e anche IREN a 2A il settore ha subito una rotazione per cui è stato un po' lasciato tra virgolette e quindi si è puntato più appunto sui bancari e sui petroliferi quindi credo che possa ancora stornare un po' e se dovesse tornare eh a livello dei 5 e 15 5 sì 5 e 15 secondo me sarebbe un interessante eh livello di ingresso perché i 5 e 15 sono stati un livello di swing lo vediamo a novembre come resistenza e poi successivamente lo vediamo a dicembre come supporto e di nuovo qua no? esatto e lì di nuovo come resistenza eh sotto Natale quindi quello lì era un livello dove il prezzo eh lavorava la resistenza poi lo ha rotto al rialzo e adesso eh sta di nuovo mh consolidando come si dice ossia non credo che possa trovare la forza per avere subito una ripartenza soprattutto in un contesto generale dove abbiamo detto che il nostro indice è molto molto tirato quindi un consolidamento successivo fino ai 5 e 15 secondo me offrirebbe un livello interessante come area di ingresso anche in ottica di portafoglio perché è un titolo che eh nel 2020 ad esempio era a 9 euro quindi è un altro di quei titoli lontanissimi dal dai suoi massimi e se facciamo caso ecco oggi Enel in un contesto di indice positivo comunque invece non sta performando bene quindi secondo me potrebbe dare un ultimo movimento esaustivo verso il basso i 5 e 15 mi piacciono molto come livello di acquisto ok ma questo buco si chiude quel gap si si chiuderà ma sai eh io faccio sempre un esempio no Tesla quando era arrivata a 6-700 Tesla ha ancora un gap mi sembra a 40 se si dovesse chiudere il gap di Tesla a 40 vuol dire che Elon Musk viene rapito dagli alieni questo per dire che statisticamente non tutti i gap si ricoprono e poi sai quando dicono si ricopre eh ma quando certo comunque questo si ricoprirà sicuramente perché ripeto non è un gap lontano mi aspetto prima di nuovo però un po' di debolezza è area 5-15 poi avremo una ripartenza credo e lì si si andrà a coprire il gap peraltro è un gap da dividendo quindi eh se noi vedessimo il grafico depurato dei dividendi neanche lo vedremmo il gap bene bene allora più che complimenti per te non leggo nei commenti quindi te li riporto grande Enrico da Simone ma forse saranno per te non per me no io mi chiamo Aga Enrico sei tu ah va bene ok ringrazio Simone bene Mirko eccolo qua pronti via salve quando Enel era a 9 euro molte banche davano target 13 12 il discorso delle case d'affare che danno questi target a me fanno molto arrabbiare ma per un motivo molto chiaro perché io leggo come tutti noi molto spesso Unicredit vale 20 Saipem vale 30 ma se tu sei serio non mi devi dire che Enel ha un target a 13 mi devi dire quando arriverà a 13 cioè perché se Enel arriva a 13 fra secondo te un anno io la compro subito perché adesso sta a 5 a 13 ma se tu mi dici che Enel il target a 13 ce l'ha fra 25 anni beh sai io ho altro da fare in questi 25 anni quindi dare un target di prezzo senza dare un target di tempo infatti Mirko ha ragione dice pensare che quando stava a 9 dava un target a 13 magari fra 5 anni arriva a 13 e la banca dirà avete visto è arrivata a 13 ve l'avevo detto nel 1915 e vabbè ma non ci faccio niente sì ma 13 non li ha mai fatti a memoria d'uomo e a memoria del grafico il grafico è difficile che sbagli eh sì qua mi dice che appunto nel lontano 2000 era a 9,5 esatto aveva raggiunto effettivamente come dice Mirko qua questo livello di 9 dopodiché è precipitata ma anche a inizio del 2021 era di nuovo a 9 a 9 euro sì però sotto non ha non era infatti allora quando sta a 9 dicono adesso romperà i massimi arriverà a 13 e quindi ecco vediamo che se dovessimo seguire a priori i consigli e avessimo dovuto comprare Enel a 9 oggi staremmo piangendo poi magari fra 10 anni arriva a 13 e ci dicono avete visto che avevamo ragione è arrivata a 13 eh amico mio ma ci ha messo 20 anni però ecco qua allora andiamo ad analizzare la sorella Eni ok che poi è una sorellastra insomma comunque dai eccola qua allora faccio un po' di pulizia qua effettivamente se no magari non è chiaro quello che vedete indici e futures possiamo fare a meno eccola qua ma anche panieri e settori ne abbiamo già parlato e quindi richiudo così ho tutto lo spazio libero per vedere questa bella candela cinque minuti però vediamo il giornaliero ecco qua ecco qua perfetto il giornaliero ci dice una cosa molto molto interessante sì che a livello dei eh quattordici e cinquanta quattordici e sessanta abbiamo una resistenza statica molto molto chiara però dobbiamo anche fare un ragionamento allora Eni è un titolo che tendenzialmente può muoversi bene se si muove bene anche il petrolio ed è quello lì un livello che nell'ultimo anno è stato attaccato vediamo da inizio 2022 già cinque volte e allora si dice che tutti tutti i record inizio 22 dici esatto da lì in poi vediamo che cinque volte area quattordici e sessanta quattordici e settanta ha fatto da resistenza beh ogni record prima o poi viene viene battuto e quindi ogni muro ha pure di prendere martellate eccetera allora qui qual è il discorso che secondo me si dice appunto che il grafico ha memoria e allora qual è il discorso che credo che Eni si debba lavorare in ottica long allora se noi dobbiamo lavorare in ottica long sulla forza dobbiamo dire che quando il prezzo supererà quattordici e settanta per stare un po' larghi quattordici e ottanta sarà un segnale per una nuova accelerazione realsista se invece il prezzo per ora non trovasse la forza di rompere quel livello e dovesse tornare a tredici e sessanta i minimi di febbraio proprio e a quel punto a quel punto potrebbe essere no chiedo scusa a dodici e ottanta perdona miaga sui minimi di febbraio esatto lì se dovesse tornare lì allora sarebbe un nuovo un nuovo riaccumulo quindi in pratica per me è in ottica longa sulla forza sopra i quattordici e settanta sulla debolezza ai dodici e ottanta quindi sui minimi fatti il diciannove di dicembre quindi è un po' incastrata questo doppio minimo anzi questa doppia v no quel doppio minimo è molto precisa è stato è stato impressionante insomma ci sono dei casi in cui il il grafico ti urla di comprare o di vendere sì ora ripeto sarebbe più sarebbe più bello se il prezzo tornasse a dodici e ottanta perché chiaramente se io compro una cosa preferisco pagarla dodici e ottanta esatto anziché quattordici questo è poco ma sicuro il petrolio è in una fase rialzista ha fatto dei minimi importanti e adesso sembra ripartire ha fatto dei minimi a settanta settantuno e adesso il petrolio sembra avere una nuova spinta rialzista quindi credo che se abbiamo un petrolio forte in salita anche anche i titoli del settore dovranno dovranno tendenzialmente andarne a beneficiare questa è proprio un'idea mia non mia diciamo in generale poi Eni è un colosso che fondi e banche istituzionali detengono in portafogli ecco vediamo tu hai messo il grafico del crude del esatto questa è un'altra cosa che con la T3 si può andare a fare quindi avere proprio in simultanei due grafici e fare degli studi interessanti ecco vediamo che il petrolio in pratica ha fatto quasi un triplo minimo tra dicembre e oggi e nelle ultime tre giornate sta sparando al rialzo e guarda caso anche Eni sta sparando bene al rialzo sì sono sovrapponibili tuttavia è palesemente più forte l'Eni no? sì beh è chiaro che un titolo azionario singolo può avere più più volatilità e così via qual è il discorso che noi vediamo tre candele rialziste sul petrolio che riparte al rialzo da un triplo minimo e quindi potremmo ipotizzare che se il petrolio prosegue come dovrebbe proseguire da grafico Eni la sua resistenza ai 14,70 la va a rompere lì sarà un segnale di acquisto secondo me abbastanza chiaro anche di lungo periodo bene allora ti chiede Salvatore invece 114 VTP long dove te lo prendo ti prendo il future sì va benissimo allora via Eni non la salviamo povera Eni allora VTP la salveremo dunque lo vedi qua no eccolo qua eccoci qua bene è quotato sull'eurex tra i settoriali non altrove ecco e quindi questo è quanto allora l'ascoltatore ci dice 114 long secondo me sì secondo me sì perché è un'area interessante sia supportiva e che non andrebbe a inficiare la candela dei giovedì 2 febbraio quella profondamente rialzista sì credo che potrebbe essere un un livello interessante in ottica rialzista altrimenti se i 114 allora dico una cosa se ad esempio noi ipotizziamo di entrare long a 114 a me interessa non solo che il prezzo tocchi 114 quindi a priori automaticamente apro il trade mi interessa vedere la chiusura della giornata che tipo di candela lascia perché poi se lascia una candela di stampo rialzista entro anche il giorno dopo a 114 e 50 non è tanto quello il problema se dovesse invece lasciare una candela non rialzista il livello successivo è 113 e 50 sui minimi di lunedì 30 gennaio comunque è tutta un'area supportiva secondo me interessante ok bene allora ah bene bene cambi come vedi a questi livelli il franco è lo yen grazie allora vorrei partire dallo yen perché in generale e qui il discorso che voglio fare è molto semplice tutte le banche centrali di economia importanti quindi Fed Bank of England ovviamente BCE hanno iniziato già da tempo ad alzare i tassi chi invece mantiene una politica diciamo molto accomodante è la Bank of Japan per cui noi abbiamo avuto negli ultimi due anni lo yen debole su tutto cos'è successo però che ormai gli investitori cominciano ad aspettarsi i primi movimenti anche dalla Bank of Japan tanto che nell'ultima riunione la Bank of Japan tutti si aspettavano che potesse fare qualcosa invece ha mantenuto invariati i tassi però cos'è che noi possiamo dire che qualsiasi grafico o studio andiamo a fare su dollaro yen canada yen euro yen euro yen eccolo qua perfetto cosa vediamo in sostanza che nel nel 2022 c'è stata una salita dell'euro contro lo yen come di tutte le valute contro lo yen però poi adesso da fine anno si è entrati in una fase di discesa e questo grafico che noi abbiamo davanti euro yen è praticamente quasi un gemello di tutti gli altri grafici perché nelle coppie di valute lo yen è sempre al denominatore cioè a destra per cui se noi prendessimo oltre euro yen canada yen dollaro yen australia yen vedremmo comunque un grafico come questo ossia sulla parte sinistra una salita e poi da inizio da fine 2022 fino a oggi una discesa perché ormai gli investitori cominciano a puntare sullo yen stanno cominciando ad accumulare quindi secondo me comprare yen è un'ottima idea e credo che per quest'anno sarà la valuta più forte delle altre perché ormai rimasta solamente la banca del Giappone a non alzare i tassi e più o meno ci si aspetta che dovrà che dovrà iniziare a farlo ovviamente per comprare yen al di là di prodotti derivati etc etf quello che vogliamo si può semplicemente su un grafico come questo con la t3 andare short di euro contro yen e in pratica si comprano yen o magari andare short su dollaro contro yen che potrebbe essere una mossa interessante perché se d'ora in poi pian piano ci si aspetta che la fed cominci ad allentarsi il suo movimento di rialzo dei tassi il dollaro potrebbe indebolirsi piano piano e se ci si aspetta che la banca del Giappone invece inizia ad aumentare i tassi lo yen potrebbe rafforzarsi ecco quindi queste due valute hanno d'ora in poi probabilmente un percorso opposto l'una all'altra un dollaro che potrebbe vedere tassi che non aumentano più e uno yen che invece potrebbe vedere la sua banca centrale iniziare ad aumentare i tassi e quindi ad esempio dollaro yen potrebbe essere lavorato in ottica short ma così anche come euro yen per chiunque volesse comprare o puntare sullo yen bene andiamo a vedere anche il franco sì franco svizzero è una situazione più incerta perché in pratica anche qui se noi prendiamo non so se riusciamo a vedere una coppia sì allora andiamo a vedere USA allora in pratica la T3 vi dà l'accesso ai contratti futures e i cambi come sappiamo sono quotati sul CME sul mercato americano e in questo caso le nostre coppie sono imparentelate con l'euro infatti quindi vado a fare la stessa cosa che ho fatto per lo yen metto il giornaliero e do tutti i dati e qui viene fuori una cosa più o meno come questa qui viene fuori una cosa molto molto interessante abbiamo avuto una discesa importante dell'euro contro il franco svizzero e da ottobre vediamo poi una ripartenza evidente adesso il trend quindi è rialzista stiamo vivendo una fase di ritraccio nelle ultime sessioni ma da quel bottom da quel fondo fatto a fine settembre del 2022 è partito un trend rialzista quindi diciamo che così può andar bene ma diciamo che in sostanza una trend line statica orizzontale a 0,97 50 secondo me ci dice ci dice proprio chiaramente quale può essere un livello supportivo importantissimo eccoci no no 0,97 50 ah scusami sono andato ma di che ci mancherebbe secondo me secondo me ecco ecco ok da quel livello in po' quello lì è stato un livello di scrimine cioè prima era un'area di resistenza che si faticava a superare poi una volta rotta è stata retestata come supporto e quindi tra 0,97 0,97 è tutta un'area secondo me di acquisto quindi in parole povere anche il franco svizzero lo vedo che potrà deprezzarsi rispetto all'euro e rispetto alle altre valute perché ad esempio qui il grafico secondo me adesso il trend l'ha invertito ripeto sta facendo delle sessioni adesso di consolidamento di storno ma i minimi e i massimi secondo me restano ancora crescenti quindi fra queste due valute punterei di più sull'euro che non sul franco svizzero perché ecco come hai messo tu il grafico vedendolo in un periodo temporale più esteso più da lontano vediamo proprio un movimento a V evidente il prezzo è sceso tanto e adesso è ripartito chiaramente i grafici si muovono a zig zag lo sappiamo certo e quindi andare a dire esattamente quali sono i minimi e massimi che si faranno io non sono in grado chi è in grado e me lo insegna gli pago un corso ma in generale vedo movimenti rialzisti adesso torniamo alle azioni italiane e andiamo a vedere STM allora chiudo questo grafico e vi faccio vedere questa funzione di salvataggio ogni volta che noi chiudiamo un grafico sulla T3 compare questa finestra desideri salvare questo studio e io di solito dico di no anche perché la capienza degli studi è naturalmente limitata invece stavolta dico di sì lui mi chiede come lo vuoi chiamare ND io faccio un 2 e 3 lo chiamo tanto per fare un esempio e quindi cosa succede dove finisce finisce proprio qua nel tool grafici un 2 e 3 eccolo qua e quindi poi dopo lo posso di nuovo riprendere esattamente con tutto quello che ci ho disegnato sopra per prendere l'STM invece vado nella ricerca titolo che si chiama allora facciamo così questa qua via la ricerca titolo si trova nel menu tool qua in alto vado qua oltre la metà della tendina no qua sopra ricerca titolo e vedete che è divisa per asset quindi generale che si riferisce al mercato azionario ETF piuttosto che obbligazioni azioni futures opzioni stock futures che credo non si usano più SD che sta per SEDEX e quindi con i suoi certificati allora io scrivo qua nel nome allora se ho l'ISIN naturalmente ho il compito facile lo metto qua devo sempre scegliere il mercato e inizio anche anche stavolta dallo scegliere il mercato MTA qua sotto il Bitgem ricordatevi che è interessante darci un'occhiata se state tradando azioni estere grosse capitalizzazioni perché se volete per esempio acquistarvi le Tesla oppure non so un altro Amazon o qualcosa di simile riferito al mercato americano lo potete comprare su Bitgem che è un segmento di borsa italiana in euro e adesso in questo orario qua valutate quindi anche a commissione dell'MTA quindi da non sottovalutare comunque andiamo a mettere MTA e scrivo STM cerca e mi dà il risultato che se clicco mi compare il book di negoziazione e posso fare le mie operazioni altrimenti vado col tasto destro e tiro fuori il grafico di STM di nuovo tolgo i volumi cambio il time frame metto giornaliero e aumento da un anno a tutti i dati la profondità bene come è messa STM Enrico beh direi che è messa bene oggi sta performando con un più 1,56 è arrivata è arrivata tu mi dici io lo so che tu sei un analista tecnico io per questo consiglio di contattare Aga per l'apertura del conto perché Aga è da tanto tempo che si occupa di mercati e sa quello che fa io lo posso dire quanto te però da circa 15 anni effettivamente diciamo che siamo tutti e due maggiorenni non diciamo altro va benissimo così e comunque siamo su un'area di doppio massimo importantissima perché a novembre del 2021 come tu hai già quello che dico che sei brava hai già evidenziato tutto siamo su una resistenza però è anche vero che abbiamo dei gap sotto ora i gap sono sempre segnali di molta forza cioè il mercato è disposto a comprare a prezzi molto più alti STM io credo che questo sia un titolo che già di suo è molto decorrelato rispetto all'indice e credo che romperà questa resistenza perché vedo che ogni volta che una candela fa un minimo viene riassorbita verso l'alto quindi una prima chiusura sopra i 46 e 50 che sono esattamente i massimi di giovedì 2 febbraio una chiusura sopra 46 e 50 secondo me chiama il long sulla forza chiama il long sulla forza perché è un titolo che non non lo butti giù neanche a cannonade non c'è niente da fare ok ok va bene volano i coltelli quindi aspettiamo che cadino un po' per acchiapparli allora a questo punto andiamo avanti con i nostri titoli non ti salvo STM e vado a prendere uno di questa nostra scelta Enrico cosa cosa guardiamo in questi quattro minuti che rimangono io guarderei Ferrari perché siccome siamo in un'ottica di di forza cerchiamo di dare qualche possibile indizio su cosa ci sembra ben impostato ok perché Ferrari è un titolo che sta provando ad andare come si suol dire in territorio vergine cioè a rompere il massimo ah per quello ho detto Ferrari perché solitamente cosa accade che quando un titolo va in territorio vergine quindi dove non è mai stato cosa succede che ovviamente non hai più resistenza in testa solitamente questi sono segnali di acquisto in questo caso il titolo comincia a galoppare a correre non ci sono pur essendo in area di resistenza nessun tipo di candela di stampo ribassista la trimestrale di Ferrari non era piaciuta tantissimo ma il mercato non non ha dato ascolto a questi dati e quando è uscita il 2 febbraio per caso pochi giorni fa sì comunque a febbraio lo 16 ha fatto qua guarda che candela capito sì e quindi è un titolo i titoli cosiddetti del lusso eccetera eccetera che non risentono di situazioni economiche eventualmente anche negative titolo totalmente decorrelato perché comunque chi vuol comprarsi una Ferrari anche se c'è un po' di crisi magari se la compro uguale io la volevo comprare ma sono andato e mi hanno detto guarda l'ultima la presaga e quindi sono rimasto senza te la presterò allora sarà un piacere andare in giro per il duomo con la Ferrari dai ok e quindi battute a parte si vanno a rompere diciamo che adesso siamo proprio in rottura di questa resistenza se Ferrari da un altro stappo rialzista ma che si fa operativamente in questo caso si entra così si chiude gli occhi e si entra o si aspetta cosa allora si aspetta la chiusura della giornata odierna nel senso che se adesso fossero le 17 15 probabilmente comprerei magari succede qualcosa e quella candela diventa rossa quindi la resistenza viene confermata perché dico questo perché se Ferrari strappa ancora rialzo come penso che farà può arrivare a 300 400 cioè non ha più nulla sopra qui diventa come Apple Tesla Amazon quando vanno su a quel punto comprare adesso o magari comprare domattina a 251 poco cambia dovrebbe iniziare la giornata e domani qua in quest'area no? sopra ai 250 sopra al livello attuale insomma dare la conferma che i 250 sono effettivamente rotturi altrimenti ancora può essere una falsa rottura ma allora io non ci credo perché il titolo mi sembra davvero fortissimo è chiaro che se questa candela attuale se adesso la borsa viene giù per qualche motivo e Ferrari anziché in verde chiude in rosso la resistenza viene confermata anzi come candlestick sarà un brutto segnale sì ma non ci credo perché quel più 16 vuol dire che il mercato pensa che Ferrari 250 li romperà assolutamente quindi ma sai cosa faccio rimetto i volumi sei curiosa di vedere su quella candela molto curiosa di vedere dove sono i volumi no allora non è la penultima no allora forse erano volumi sul prezzo comunque li ho presi da qua aggiungi e vabbè scusa ha fatto il doppio dei volumi qua sono entrati allora se tu vedi lì sono entrati a 2.30 2.40 pur sapendo che c'era una resistenza a 2.50 quindi intente quella resistenza è destinata a morire giovani sì molto interessante questo studio bravo dai l'ultimo è mezzogiorno mezzogiorno 0.1 però meglio banca vai corri io sono qua non dicevo mica il trome corri a far vedere questo se mi alzo e comincio a correre non mi vedete più ecco medio banca medio banca invece è una situazione differente ha corso ha corso tantissime qui ho detto medio banca per far vedere qualcosa di opposto siamo ma sono tutti sul doppio massimo eh no medio banca ecco vedi è vero che è su su un doppio triplo massimo però medio banca il doppio triplo massimo il problema è che lì se va a rompere quest'area poi ha un'altra resistenza doppia a 10,60 esatto 10,80 quindi questo è un titolo che è salito ripidamente ma ha ancora tante resistenze in testa ed è uno di quei titoli che essendo un bancario come dicevamo per l'indice potrà ancora dare un po' di strappo rialzista ma se l'indice a 28.000 dovesse fare un po' di consolidamento anche anche i bancari insomma potrebbero avere una fase di consolidamento ecco quindi questo è un titolo che adesso invece non cercherei non cercherei ad esempio di comprare quindi ho voluto far vedere due titoli che graficamente Ferrari e Mediobanca sono su resistenza ma hanno delle prospettive totalmente differenti ecco bene molto interessante allora io invece voglio far vedere quello che abbiamo visto poco anzi a proposito dei volumi io adesso per aggiungerli prima avevo fatto indicatori e backtest invece adesso vado su una chiave inglese quindi questo fumetto azzurro di prezzo che compare solo quando io passo col cursore e vi dà questa finestra qua dove c'è un aggiungi veloce allora Enrico diceva non era la penultima in effetti la penultima è volume prezzi quindi sono volumi orizzontali ah ok e allora qui vediamo che in effetti quest'area quest'area qua è sotto diciamo il prezzo attualmente è sopra quest'area di volume anche se aumentando di profondità effettivamente qua vediamo stanno lottando diciamo che c'è un muro sì 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 bene assolutamente d'accordo allora ci vediamo di nuovo con Enrico esattamente tra un mese vi ricondivido i miei recapiti così se volete mi potete far avere le vostre domande anche prima perché no mi scrivete mi whatsappate e soprattutto contattatemi per avere maggiori informazioni sul conto WeBank per fare trading investimenti ma anche per la parte banking perché il nostro è un unico prodotto che comprende tutto voi utilizzate quello che che volete quello che preferite grazie Enrico grazie per questi contenuti di oggi ci rivedremo l'otto di marzo con le mimose e grazie grazie a Stefano Bargiacchi in regia grazie a voi per aver partecipato ciao grazie Aga grazie WeBank un saluto a Stefano un saluto a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti